Questa sera si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio Comunale di Sansepolcro e verranno quindi sciolte tutte le riserve sulla composizione della giunta comunale. In primis ci sarà la cerimonia di giuramento del sindaco Daniela Frullani che nel ballottaggio aveva sconfitto il candidato del centrodestra Fabizio Innocenti. I cittadini potranno poi conoscere la squadra di governo che verrà formata dalla stessa Frullani. Appuntamento importante quindi per il comune Biturgenze che con il primo Consiglio Comunale vede ufficialmente cominciare una fase politica sicuramente diversa da quella appena conclusa. La maggioranza capeggiata dal sindaco Daniela Frullani si è già messa al lavoro per affrontare i primi punti del programma ma anche entrambe le opposizioni, cioè quella guidata da Fabrizio Innocenti e quella con a capo Danilo Bianchi hanno già studiato le linee da seguire e da portare avanti. L'attenzione è però al momento incentrata soprattutto sull'insediamento di Daniela Frullani e su questo Consiglio Comunale che rappresenta il primo passo ufficiale della nuova amministrazione.